Sì, sì, ciao Margherita. No, sto in viaggio con l'aereo qui sul tavolino. Se l'è l'aereo, se lo fa lì. Abbiamo fatto un ceretto così, sì, all'avventura. Sì, domani ci vediamo che faccio quella scoppa aciato il mondo. Sì, sì, sì. C'è capito, finisci, ma la saluta al tavolino. Sì, brindo a te, la saluta a te. Va bene, va bene. No, non manterrò, no, salve signora. Sì, sì. Oh, puoi scrivere il film? No, no, no. Puoi scrivere il film? Sì. La porta, la porta, il guaritore. Va bene, va bene. Il professor Ress. Domani ti chiamo. Sì, adesso non ti chiamo. Sì, sì, ok. Salve.